Facciamo luce sul problema della sordità. Vogliamo accendere i riflettori sui sordi che rimangono ancora oggi troppo spesso invisibili. Vogliamo promuovere l'uso di un linguaggio corretto. Si dice lingua dei segni e non linguaggio. Si dice sordi e non sordomuti o non udenti. Il 28 settembre accendiamo i riflettori e coloriamo di blu il nostro castello. Si tratta di un gesto simbolico, ma che riteniamo di grande importanza, perché con la sensibilizzazione vogliamo contribuire a fare passi fondamentali per mutare l'approccio verso le persone con disabilità, abbattendo varriere e pregiudizi, costruendo un futuro realmente inclusivo. Facciamo luce sul problema della sordità.